www.feyyaz.tv Io ho giurato fedeltà a Cosa Nostra. Io non lo vado. Ma perché ti non aggiri giusto ora? Cosa si mettono in buono, ma se... Piccoli, piccoli, non ti puoi portare in tuo tabuto, per poco. Ma chi stai con i leoni si stanno scannando a mezzo mondo? Il mio sangue di Buscetta deve essere ucciso, eliminato. Ho un po' caso, a suo cuore. Mezza famiglia mi fai scannare, i figli. E devo dire quello che... E adesso diventerò una celebrità. Cercheranno di distruggerla. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Faccio i nomi, Buscetta. Per me non ci sono intoccabili. E io sono spagnati! Perché il testo è mente su ogni cosa! No! Perché mi ha levato la pace dalla mia famiglia! Usa i politici? E quali politici? Non aspettavo il ruggito del leone. Ho sentito lo squittio di un topo. Questa vera non è finita appena cominciata. La mafia non è invincibile. È un fenomeno umano. Avuto l'inizio avrà una fine.